Musica Casal di Principe rispetta l'ambiente? Sì, certo, Casal di Principe, essendo una cittadina che viene da tradizione contatina, non può non rispettare l'ambiente. Poi chiaramente per molti anni la presenza qui di gruppi criminali ha distrutto il nostro ambiente, provocandoci danni enormi dal punto di vista anche della salute e anche dal punto di vista economico. Però un po' alla volta si sta recuperando, queste iniziative che abbiamo fatto qui hanno un valore simbolico importante, però è stata attivata, è stata riattrezzata tutti i servizi di raccolta dei rifiuti, stiamo ancora procedendo, abbiamo l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi europei del 65% e superarli anche. Grazie